Musica Bella a tutti ragazzi, bentornati nel Dark Channel Io sono DARTONICE e bentornati in questo primo video su questa nuova serie di LEGO Lobbit Iniziamo subito, spero che vi piaccia Sono riuscito ad averlo Questo qua non so perchè ha avviato per sbaglio il salvataggio e non avevo registrato Però via! Iniziamo subito, non ho fatto niente quindi non so come si fa Vediamo come sarà questo gioco Non vedo l'ora di iniziare Ho visto i film e mi sono piaciuti davvero tanto Ogni tanto vi parlerò sopra le cutscene proprio per non avere problemi con il copyright e tutta sta roba Comunque, volevo solo dirvi che io ho visto i film E ho letto il libro Cioè il libro in teoria lo sto leggendo ancora Però l'ho quasi finito Però speriamo che qui non spoilerino il finale dei film Anche perchè secondo me questo gioco non sarebbe dovuto uscire in questo periodo Ma secondo me un pochino... Cioè dopo che usciva il terzo film O non so Poi volevo anche dirvi un'altra cosa Che per quanto riguarda SimCity Ogni tanto... Cioè per questo periodo dato che abbiamo Lego Lobbit Che è un gioco che fa giocato di fila Dato che è una storia Ho deciso di stopparlo un pochino Così almeno ci facciamo questo qui tutto di un filo e poi facciamo SimCity Adesso vediamo un po' Dai Bello l'oro eh Eh che bell'arco Non gli piace No Non gli piace l'arco Non gli piace l'arco Eeeh puttalo Uh vai 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 Usiamo Tori in un scudo di guerra Via Aspettate un attimo Allora andiamo un attimo lì che vado a prendere l'oro Poi scendiamo qua giù Qua ci prendiamo tutte queste qui che ci potranno servire credo Vai Andiamo qua Prendiamo qua Ok Qua che dovrei fare? Eh ma Ehi No Non volevo romperlo io Ma io non volevo romperlo Come funziona qua? Ehi Eh ma scusate Lo sfonda tutto Tieni premuto B per costruire Con oggetti Lego saltellati Che svario Poi Olè Andiamoci a prendere il coso Ora qua che ci vuole? Il martello No Andiamo da lui Tieni premuto Y per far comparire la ruota di gioco e seleziona Teniamo premuto Y che mi serve è questo credo Ah ecco qua Ora che sono arrivato qua che dovrei fare X Perfetto Però ora vorrei tornare a Dorin Vai Piano piano Andiamo un po' Vai Prendiamoci sempre i cosetti Che spettacolo Erebor Dai Inchinatevi da me Dai Inchinatevi Oh Sti stronzi Voi Bastardoni eh Che costava inchinarmi per due volte Uh Ora 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 Eh 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 Sto cosetto non mica lo dobbiamo lasciare eh Uh che figa Vabbè Prendiamo tutto Questo che cosa eh Non lo posso prendere no Vabbè andiamo avanti Vai Non vedo l'ora di usare anche gli altri personaggi E fare tutti quei viaggi spettacolari Dai Do andate Perché Non ho chiuso la porta in faccia Vabbè credo che devo distruggere anche qui tutto quanto Vai Ok E mo Ah forse ci vuole quella cosetta che stava lì sopra Vediamo un attimo eh Questa Come si prende? Boh non so se serve Però intanto ci dobbiamo prendere Un po' di oro Un po' di bulloncini Qua che ci saranno sempre utili Vai Poi fatemi sapere anche più o meno Da quanto li volete lunghi questi video Se volete sessioni da mezz'ora Da quindici minuti Fatemelo sapere Mo' questo primo video sarà un pochino più corto Perché devo ancora Devo ancora vedere Cioè ve lo devo presentare innanzitutto E poi bisogna vedere com'è il gioco E tutto quanto Vai Premi B per prendere un sasso Poi tieni premuto X per mirare E rilascia per lanciare Quindi Premi B Per prendere un sasso E poi premi X per lanciare B Oh Stai calmo Ah ok Poi X E devo mirare qua credo si Vai No Bombur Vabbè intanto che voi mangiate Io passo un attimo da questa parte Lo splendore di questa città fortezza era leggendale La sua ricchezza Si trova nella terra I preziosi gemme ricavate dalla roccia Grandi bene di oro che scorrevano Ehm I fiumi tre sasso Ah e dovrei fare la stessa cosa con lui Vai X spam Ok Vabbè intanto ci riprendiamo tutto questo Poi saliamo qui so Cioè saliamo qui sopra Vai Olè Perfetto Prendiamo il possesso di Thorin Vai Riprendiamo il come sempre Uh quanto oro Mio mio Tutto mio Ho merito io Madonna quanto Vai Rompiamo tutto Vai C'è capito Se è costruito il cose Se ne va Ah dai Mo arrivo Mo ti seguo Dai Su Andiamo qua Iniziamo a prenderci un po' tutto quanto Vai Che mi dice questo Può creare oggetti utili Nell'incudine Con il bottino L'ho trovato Degli oggetti Ok Allora innanzitutto ci prendiamo un po' di queste cose qua Un po' di oro Rompiamo tutto Perché noi siamo dei vandali Vai Rompi tutto Ah Pazzata Prendiamo più monetine possibili Uh Che figata Che sono Voglio le voglio Uh Bello Rompiamo pure il tavolo Rompiamo tutto qua Tanto il nostro è il regno Noi siamo gli eredi Quindi facciamo ciò che ci pare Dai Rompiamo questo Questo Tutto quanto nostro Vai Questa scatola Vai Perfetto Via Uh Qua c'è proprio da Che stai a fare? Ma che cacchio? Vabbè Pure il secchiale rompiamo Vai Tutto quanto Poi andiamo da quest'altra parte Vai Continuiamo a rompere tutto Vai Su Uh Belli Zaffiri Che spettacolo Rompiamo l'acqua So che ti serve Però non mi interessa Perché mi serve pure a me Vai Rompiamo tutto qui Uh Dietro sta una cosa fichi Ah ci vuole lui Vai Vai Torniamo con Thorin Vai Uh Che spettacolo Vai rompi tutto Vai Vai Oh le Su Rompiamo tutto Mio Mio Uh Pure le gemme bianche Vai Rompi i piatti Tutto quello che trovi intorno Vandali Vai Pure lo standardo Che bello Tanto a noi non ci dicono niente Vai Così Riprendiamoci anche questo Poi rompiamo pure qua Vai Uh Rossi Ora credo che dovrei Riuscire a costruire Perché vado qua Premi i pii Per andare nelle piccole Aperture lego Ok Usa la chiave SfG necessaria Per aprire questa porta Premi i pii Quando sei la Ho già capito Che devo andarmela A costruire qui sopra Com'era che si faceva Eh Lo includo Tra gli oggetti lego Dai Spendi il bottino lego Che hai raccolto Non è qualcosa Prima mia Per scegliere il necessario Ok Quindi Eeeh Che devo spendere Spendo questi Questi E questi E questi E l'asse di legno E mo? Mo basta Ok Quindi E ora? Quindi Abbiamo usato Tutto questo Abbiamo finito Ah Devo prendere Ah Devo entrare nella fessura Qua Vai Ecco qua Riusciamo di qua Su Per far girare Le manovelle Ok Ok Sì 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 Vai Arriviamo B Vai 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 Su 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 Perfetto Quindi Sì Andiamo Ah ok Ah ecco qua L'oro Andiamocelo a prendere Mio 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 Quindi In teoria Uh ecco qua Vedi sta facendo Premi X A B Y Quando compare L'uccichio Per riempire L'anello di forgeturo Ok X A Y B B Allora Su Come devo fare Ah ma mi sa che devo prendere Tutti insieme No Come funziona E dai B X A B Y Così ha detto Premi ripetutamente Ma come funziona Abbiamo già fatto No Avevo bisogno di questa chiave Ho capito Quindi Allora devo andare qui Andiamo qui sopra Trovare l'oggettilego Ok saliamo qui Premiamo B Dai Va qua Devo premere ripetutamente X Uffa Come funziona Come funziona Che vuol dire Premi ripetuti Cioè Premi x x x a Cioè Non ho capito Vai Uffa E dai Mi dici come funziona Uffa Ma perché Ma perché 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 Dai Perché Perché non me lo fai Su Che devo fare X A Y X a X a X a X a X a Perché Porca miseria Non va Allora Ehm Mica me lo dice Come si deve fare No Ah ragazzi Come funziona Perché Perché Sono così Anticappate Non leggo Dai Non possiamo Bloccarsi A inizio Gioco Uffa Vediamo un attimo Riproviamo Allora Vai Cioè Non so Come devo fare Proviamo A premere Solo X A Vai Proviamo Usa lui Vediamo Un po' Se cambia Se uso lui Vediamo Un po' Vai Vedi Che li sto A premere X a Y Uffa Ma perché Non va Ah Non ho dei bottini Lego Dai Vai Tutti insieme Qua Non Non ho capito Come devo fare Come funziona Allora Aspettate ragazzi Provo Off camera Faccio Un po' Di tentativi Off camera E ci rivediamo Tra qualche istante Allora ragazzi Credo di aver capito Vai Vai Perché ho provato In tutti i modi Possibile Mi sa che devo aspettare Quando mi dice Lui di premere Vediamo eh Eccolo là X Y Vai B X X X E sta a posto Mamma mia Ho provato In tutti i modi Dopo un po' Alla fine Ho visto che arrivavano E ho capito Perfetto Ok Era di vogliare Forgeva un oggetto Di grande bellezza Eh Lo credo Vai B Vai Apriamo tutto Perfetto La butti così Cioè Vai Apriti sesamo Via Madonna le miniere Mio dio le miniere Vai vai Ha detto Le abitazioni tra di mezzo Possono aiutarti Se trovi l'oggetto Di quello che bisogna Quando noi trovi l'oggetto Prima di B Se ne cerchi ok Devo prendere questa qua B E devo andare da lui Vai Chi è Vanna e fiera Un pezzo Ah è un flauto Vai tutti accantate Guardate a quello rosso Dai Allora Innanzitutto Prendiamoci un po' Di sta roba Rompiamo un pochino Tutto Così Perfetto Y Mi servi tu Vai Così Rompi tutto Pammete Vai Andiamo di qua Vai Vai Riprendiamoci tutto Tentando questo qua Credo No no Questo qua Non c'è bisogno Di distruggerlo Vai 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 B Costruisci il razzo Olle Vai Vai Appintiamoci ste cose qua Che ci servono Ci vuole lui Famme te Mamma mia Che pro Andiamo lui Ecco qua Perfetto Poi Qua che ci dice Ti servirà Del bottino Lego Per costruire questo Ok Trovare il bottino Lego Strand Perfetto B Questo serve Ah no Questo non ce l'abbiamo E poi Queste Mi servono Perfetto Questo E questo Perfetto Olè Che è sta cosa Completa la costruzione Lego Trovando I giusti pezzi mancanti Trovali in fretta Per ottenere Il buono scettone Allora Questo Perfetto Poi Questo qua Questo Vai Che è sta cosa Da fa tutto da solo Cioè questo non c'è niente La ruota Vai Il fregnetto qua No vai Questa sensibilità Lenta Dai Oh Non mandava Giravo la levetta E il quadratino Il quadratino Vai Invece ora che faccio Con le freccette Più Più veloce Perfetto Che le serve Il coso così No sbagliato Questo La stanghetta Perfetto La ruota Vai Che è questo cosetto Il piccolino Qua Vai Costruzione veloce Perfetto Mannaggia Con la levetta Facevo una cosa E me la andavo sotto sotto Ora Mo Ok vai Pam Uuuu Figata No no Lui Pam Pam Rompi tutto Olè Perfetto Passiamo a Lui Ah no Vedi Vedete Vi posso Spostare Vai Pam Mete Pam Seavano sempre in fondo Giù nell'oscurità E fu lì che lo trovarono Ah la La sal L'arcangema Il cuore della montagna Ah che Comunque non la segue Moltissimo La La storia del film C'è la maggior Grande linee Si La Sighnessa Ha iniziato Di crescere In lui E La Sighnessa Sighnessa Tutte cose E Cacchia Ecco arriva il vento La prima La prima Di non provare Come un uragano Suona l'allarme Drago Smaug viene e arrivo Drago Vai Era un drago Sultafuoco del nord Agna Questa città Fuori Il maialino Eccolo che arriva Sparate I dragoi Copernati Cold Con un desiderio Dormito E feroce Smaug Quello là Che si stava bruciando Dietro Smaug Ha venuto Smaug Una morsa frusta Come quella di Trove per agganciarti Ok Vai Che svario Se hai bisogno di riposo Premi B Per attivarla Ok B Facciamo così ragazzi Questo primo video Lo concludo qui Così fatemi sapere Se vi piace Questa serie Io spero di sì Comunque fatelo sapere Con un bel mi piace Un commento E se vi piace Il mio modo di fare video Iscrivetevi Comunque Ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti Questa secondo me È una serie spettacolare E anche questo gioco È un gioco spettacolare Ciao a tutti